se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video buongiorno raga, qua è Savix che vi parla allora vi voglio portare un metodo che tutti quanti forse già conoscete ma io ve lo porto lo stesso il metodo per non cadere mai dalla moto quando fate le prove a tempo praticamente salite sulla moto di un vostro amico lo fate andare per entrare nel garage dell'attico di lusso e nella schermata garage o parcheggio voi scendete a questo punto voi sarete buggati e se salite su una qualsiasi moto ragazzi non cadrete più quindi raga a questo punto non ci resta altro che prendere la moto e andare a fare la nostra gara a tempo io oggi vi porterò giusto la gara a tempo di Yao solo per farvi vedere che con questo metodo ragazzi è veramente facile fare le gare a tempo in free mode ragazzi quindi vi taglio sto pezzo e vi lascio direttamente alla gara a tempo raga spero che i miei video vi piacciono lasciate un like lasciate un commento se vi è piaciuto il video e sbada bam raga al prossimo video buona visione ciao 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 ciao